Uno stop di 24 o 48 ore per dare modo al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara di smaltire i ricoveri. L'afflusso, sempre costante, è aumentato ulteriormente per una serie di ragioni spiegate dai vertici aziendali. Ovviamente bisogna anche considerare il periodo particolare, il Covid, che con la variante Omicron ha fatto lievitare il numero dei contagi. Ma anche l'invecchiamento della popolazione, con tante patologie croniche che portano gli anziani a rivolgersi alle strutture ospedaliere di pronto soccorso. Ma anche, come motivazione più generale, lo scarso appeal esercitato dalla professione. Sono sempre meno i giovani che scelgono di specializzarsi in medicina di emergenza o rianimazione. Lavori che richiedono grandissimi sacrifici in termini di orari a fronte di stipendi non adeguati. Ieri abbiamo preso questa decisione di bloccare per 24-48 ore l'accesso in pronto soccorso e i ricoveri di pazienti esclusivamente di area medico-geriatrica. Tutto il resto dell'ospedale ha continuato ad accettare pazienti regolarmente. Questa situazione si è verificata proprio in occorrenza della festività e nei giorni precedenti, legata sia ai picchi Covid, che hanno limitato un pochino l'assistenza territoriale di questi pazienti anziani, che hanno fatto maggior ricorso al pronto soccorso. Quindi, nelle giornate di oggi contiamo di rientrare da queste emergenze e di riprendere la normale attività. Il personale infermieristico e gli ossi ci sono. Il problema ce l'abbiamo, come ce l'ha tutto il Paese, sui medici. Non si trovano, tant'è che nella nuova finanziaria hanno previsto un aumento di stipendio per cercare di favorire la scelta da parte dei colleghi di questa specialità, che è una specialità importante, molto faticosa, per cui i giovani cercano di andare verso altre sponde. Quindi ci vuole un ulteriore impegno a livello nazionale perché i nostri prossimi medici scelgano la medicina di pronto soccorso. Tutto questo intasamento anche al pronto soccorso riflette anche un disservizio da parte delle strutture che potrebbero invece essere presenti a casa? Che il territorio abbia delle difficoltà è noto, tant'è che nel nuovo piano nazionale è previsto un cambiamento. Sono previste le case della salute, gli ospedali di comunità, cioè delle strutture intermedie che facciano da filtro per gli ospedali, che si è evidenziato con la pandemia che è troppo debole l'organizzazione che abbiamo sul territorio. Chiaramente i numeri sono così grandi che tutti stiamo in affanno, compresi anche i medici di base ovviamente, che penso saranno assolutamente impegnati a rispondere a migliaia e migliaia di chiamate. La struttura è debole, è importante appunto non perdere questa occasione per rinforzarla in modi diversi, perché quelli che abbiamo in essere non sono validi, è più che evidente. Però le file al punto soccorso di ore ed ore, quelle ci sono sempre state, almeno al punto soccorso di Pescara? Guardi, le file ci sono sempre state e ci saranno, perché a fronte di tutto quello che ci diciamo c'è una popolazione che invecchia, che viene curata e assistita e che si riammala. I pazienti anziani noi siamo, usi considerarli cronici, ma nella loro cronicità che deve essere e può essere gestita sul territorio, poi sopravvengono le fasi acute e in questo caso si è costretti a tornare in ospedale. Grazie. 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 Grazie.